Mamma, 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 mamma. Prima di iniziare una nuova missione, Lancilotto Agente 008 e la sua bellissima collega Matakiri si godono qualche ora di meritato svago sulla loro barca. Lancilotto, dove abbiamo appuntamento con il Principe Calì? All'aeroporto, in suo aereo dovrebbe arrivare alle 4.30. Bene, così abbiamo un paio d'ore per fare un giretto in barca.